non mi sono mai presentata bene qui su questo canale youtube e quindi lo faccio adesso sono morena ho 54 anni appartengo ad un'azienda americana di beauty e di skin care ho fatto questo lavoro iniziando come secondo lavoro praticamente lavoravo come impiegata in un'azienda di recupero crediti e poi a un certo punto le circostanze della vita mi hanno portato a decidere a pensare per me finalmente mio figlio iniziava a lavorare e io mi sono detta voglio cercare di fare qualcosa per me ero dentro questa azienda dove lavoravo già dal 2017 da circa due anni e mezzo e lavorando full time ho deciso di cercarmi un part time ho cercato un part time l'ho trovato purtroppo il part time che ho trovato titolare si è ammalata gravemente ha dovuto chiudere il negozio quindi mi sono ritrovata con questo lavoro in mano che oggi come oggi è diventato il mio unico lavoro allora mi sono detta ok faccio qualcosa realmente per me qualcosa che mi piace qualcosa che mi realizzi e questo è quello che amo fare amo comunicare con tante donne amo comunicare con dei semplici video perché io non sono una truccatrice credo che ve ne siate accorti sono semplicemente una consulente di questa azienda che studia i prodotti cerca di capire la performance di questi prodotti li testa su di me e li propone alle persone tramite dei video tramite dei canali perché noi siamo una social selling la mia azienda è un'azienda di network marketing che molto interessante praticamente siamo pagate dalle nostre provvigioni dopo tre ore dopo tre ore noi riceviamo le provvigioni sulla nostra carta di credito e quindi è un lavoro veramente molto interessante ci sono tantissime particolarità di questo lavoro che ti consentono veramente di poter guadagnare e poter far sì che la tua indipendenza economica diventi reale potrei dire tanto potrei dire di più ma mi voglio fermare qui mi voglio fermare qui perché il mio obiettivo principale è sempre stato quello di poter arrivare a tante donne e tante donne mi contattano le soddisfazioni sono incredibili io finalmente nella vita mi sono resa conto cosa significhi fare un lavoro che ti piace perché è molto diverso da voler fare un lavoro che ti piace al dover fare un lavoro che magari ti piace meno o ti piace poco chi inizia io lo consiglio anche come secondo lavoro come ho fatto io poi strada facendo si può vedere se veramente può diventare l'unico lavoro gruppo è un gruppo di donne nessuna viene mai lasciata sola qui quando tu decidi di entrare nel mio gruppo tu non sei un codice sei una persona sei un valore aggiunto che insieme possiamo creare costruire e fare tantissime cose belle interessanti se sei appassionata di questo settore quindi non c'è mai un'età per iniziare a pensare a se stesse per iniziare a volersi bene e per iniziare anche a trovare la passione di quello che fai questa è la mia esperienza all'interno della mia azienda unique dove io sono estremamente grata di appartenere prima è nata la fondazione che aiuta donne e bambini che hanno subito delle violenze degli abusi psicologici mentali il 10 per cento su ogni prodotto tipo questo tipo questo che noi vendiamo il 10 per cento va alla fondazione che è nata prima del makeup perché si autofinanzia quindi io sono in questa azienda non solo per i prodotti ma per tutto quello che c'è dietro i prodotti che è tanto e tanto di più se sei anche tu appassionata di makeup una semplice conversazione un semplice contatto senza impegno non esitare a farmelo perché io sono qui anche proprio per informarti per poterti spiegare e poi deciderai tu con calma se potrai interessarti grazie per aver guardato questo video e i prossimi torniamo al makeup ciao